Uno sportello locale che avrà l'esclusivo scopo di tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori utenti. È stato inaugurato sabato sera a Fevara in Via Milano alla presenza delle istituzioni politiche, militari e religiose l'ufficio AdiConsum. Presenti ovviamente il segretario provinciale AdiConsum Alfonso Scanio ed il segretario provinciale della CISL Salvatore Montalbano. Coordinatore locale è stato nominato l'avvocato Giuseppe Di Miceli, il quale già consulente stragiudiziale si prefigge di raggiungere l'obiettivo di offrire ai consumatori per conto della AdiConsum una tutela gratuita per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso. A curare l'aspetto economico e finanziario invece è la dottoressa Oriana Cusumano. La AdiConsum, associazione difesa consumatori ed ambiente, ricordiamo offre servizi di consulenza ed assistenza rivolti direttamente ai consumatori in diversi settori, come qualità e servizi dei prodotti, equità e trasparenza dei contratti di adesione, risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente, nonché educazione dei cittadini al consumo consapevole e socialmente responsabile, sicurezza di internet, commercio e servizi ed ancora viaggi e turismo, telefonie e trasporti. In tale ottica si promuove una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, anche attraverso la presenza di sportelli locali che sono punto di riferimento di coloro che quotidianamente subiscono raggiri ed inganni di ogni tipo. Lo sportello di Fevara sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30.